In manette Rosalia Messina Denaro, la sorella del boss Matteo Messina Denaro, posta gli arresti dai carabinieri del ROS con l'accusa di associazione mafiosa. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la cassa della famiglia e la rete di trasmissione dei pizzini, consentendo così al capo mafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza. È stato un appunto dettagliato sulle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, scritto dalla sorella Rosalia e dalle nascosto, a dare agli investigatori l'input che ha portato il 16 gennaio scorso all'arresto del capo mafia. Lo scritto è stato scoperto dai carabinieri del ROS il 6 dicembre scorso, mentre piazzavano delle cimici nell'abitazione della donna. Mentre erano intenti alla ricerca del posto giusto in cui nasconderle, i militari hanno scoperto un appunto all'interno di una gamba cava di una sedia. L'operazione che ha portato all'arresto di Rosalia Messina Denaro è stato condotto dal ROS, dai carabinieri del comando provinciale di Trapani, e dallo squadrone eliportato dei cacciatori di Sicilia. La misura cautelare è stata disposta dal jeep Alfredo Montalto. Sono in corso decine di perquisizioni in provincia di Trapani.